E' un'altra cosa. C'è chino beccato! Sto ricaricando! Nemico! Inversibile! Vantaggio noi! Lancio una Molotov! Abbiamo perso il... Cambio il caricatore! UAV nemico in volo... UAV andato a live... Granata stordente partita! Sto ricaricando! Mizzile cruze in avvicinamento! UAV attende istruzioni! Confermato! UAV operativo in zona! Con mortaio in attesa! Brutta cosa la vendetta, eh? Cambio caricatore! UAV in attesa! Sto per restare senza colpi! Mi hanno beccato! Cambio caricatore! Attiva! Nemico ucciso! Puoi caricare! Uo! Soprita! Pas di qui! Sto peccato! un avvento amico attivo attenzione un avvento amico attivo 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 amico attivo un avvento 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 che viene si riuscirà abbiamo fatto un avvento amico un avvento amico attivo Grazie a tutti.